14 giugno 2013 Sherwood Festival il primo giorno del weekend per qualcuno il primo vero inizio del festival perché magari si è sbrigato per raggiungerci abbiamo qui Giovanni di Marta sui tubi buonasera Giovanni con me c'è anche Miriam che è qui per parlare di qualcosa di molto importante con Giovanni per cui l'intervista sarà condotta a quattro corde vocali per precisare un po' meglio ottimo caro Giovanni noi siamo in tre ma voi siete diventati cinque in questo caso quest'anno durante questo 2013 cinque un album un album dal vivo fra l'altro di recente uscito con Excel e il quinto album insomma non sono solo gli elementi diciamo di cui si compone non sono bruscolini esatto non sono bruscolini da carne con gli occhi ne abbiamo fatta di strada passando per Sushi e Coca poi siamo andati molto avanti beh è normale attività di un gruppo musicale noi siamo in cinque però già da cinque anni quindi non a caso il nostro quinto disco si chiama cinque anche per indicare questa cosa insomma è un numero molto ricorrente negli ultimi anni nella vita di Marta ma anche cose stranissime tipo camera di albergo 105, 205 tutte queste robe i quinti artisti usciri a Sanremo in ordine di apparizione questo cinque continuava a perseguitarci quindi e alla fine questa persecuzione ha dato degli ottimi frutti a quanto sembra perché siete sempre siete sempre sul palco a strimpellare come dagli inizi vi divertite riuscite sempre a divertirvi ma che strimpellare a spaccare il culo vabbè ma io volevo usare degli eufemismi perché queste cose queste cose diventano molto belle anche quando ti trovi faccia a faccia o con degli altri colleghi con cui fai qualcosa o faccia a faccia anche con canzoni d'altri in questo periodo ti abbiamo visto molto attivo anche nelle cover per dare un nome molto brutto ma diciamo che noi di solito non facciamo cover nei nostri concerti nell'ultimo anno invece abbiamo omaggiato il repertorio di Lucio Dalla perché comunque abbiamo avuto il piacere l'onore di condividere con lui le esperienze molto belle quindi ci siamo sentiti proprio in dovere di ricordarlo spesso esperienze sopra e sotto il palco culminate anche con la registrazione di Cromatica che è un po' un regalo non postum per davvero però insomma un regalo molto importante per tutti i fan di Lucio e per i fan di Marta poi ti sei ritrovato anche a reinterpretare ad esempio una Pigro di Ivan Graziani ah sì certo è stato un piacere immenso anche perché Ivan Graziani è stato uno dei primissimi musicisti italiani che ho apprezzato e che mi ha fatto capire che si poteva cantare in italiano senza essere banali esprimendo dei concetti in maniera originale ironica senza essere stupidi ecco decisamente sì alla fine tutti i porti delle sue navi hanno portato dei porti sicuri come una band che è riuscita ad andare a Sanremo senza sputtanarsi un altro raro senza raccomandazioni senza raccomandazioni senza major su questo non avevamo dei dubbi i tuoi dubbi invece sul futuro sui prossimi pezzi che vorresti scrivere ah non lo so cioè le canzoni nascono da sole non puoi non puoi progettarle non sono come degli edifici che ti metti lì e li disegni le canzoni arrivano spontaneamente spesso contestualmente a delle prove che fai dalle improvvisazioni in sala prove poi da lì prendi selezioni le cose che ti suonano meglio e poi ci costruisci intorno la canzone vera e propria vorrei arrivare all'altro argomento principe di questa sera che è molto importante e attualissimo che è quello del crowdfunding vorrei arrivarci parlando un po' della migrazione si parla spesso di cervelli in fuga si parla anche di strumenti in fuga in questo caso perché due persone partirono dalla Sicilia si dice un tempo e non stava raccontando una storia finta ma una storia vera partirono dalla Sicilia arrivarono a Bologna poi transitarono per Milano e cambiò tutto o forse non è cambiato niente siete voi in questo caso siete tu e Carmelo sì siamo io e Carmelo più Ivan più Mattia più Paolo perché nel frattempo ci siamo moltiplicati come conigli però all'inizio eravamo soltanto io e Carmelo il chitarrista quindi chitarra e voce a suonare prima a casa poi nei piccoli club a Bologna e poi pian piano abbiamo incominciato a perlustrare tutta la penisola è un percorso lungo è durato dieci anni abbiamo fatto e stiamo tuttora facendo tantissima gavetta però è un lavoro straordinario è un lavoro che abbiamo sempre voluto fare sin da bambini e ci sentiamo anche dei privilegiati a fare un lavoro che ci fa divertire che ci dà tanta energia mentre in questo periodo insomma l'economia nazionale non naviga nelle acque migliori e c'è tanta gente che perde il lavoro noi ci divertiamo facendo il nostro lavoro penso che sia un privilegio grandissimo e quindi stiamo sempre con le chiappe strette come si suol dire a questo si riflette anche per chi vi ascolta allora grazie per essere qui a Sherwood per noi è importante per noi è bello avervi qui ad aprire una stagione di venerdì e di sabati che dura un mesetto e che porta un po' più della musica in giro qui intorno e per portare più musica intorno è nato anche MusicRacer allora tornando a fare un po' di conti più di 300.000 euro più di 100 progetti di successo più di 3.000 visite giornaliere è questo quello che garantisce attraverso MusicRacer per il finanziamento dalla folla così è il crowdfunding vuoi spiegarci un attimo che cos'è MusicRacer? MusicRacer è una piattaforma di crowdfunding e come hai detto tu appunto è un neologismo l'unione di crowd folla funding finanziamento è un modo per finanziare qualsiasi tipo di attività o progetto io e la mia compagna social Tania Varuni abbiamo creato questo sito che si chiama MusicRacer che permette appunto di finanziare esclusivamente progetti che hanno al centro la musica quindi si possono finanziare dei progetti discografici un disco così come un videoclip ultimamente ci stanno arrivando tantissime richieste per i festival estivi perché venendo a mancare appunto le sovvenzioni istituzionali comunali provinciali molti molti festival per fortuna lo Sherwood continua in salute e questo ci fa tantissimo piacere ma molti festival sono molto sacrificati e non riescono appunto a trovare i fondi per mettere su un palco per organizzare le cose in maniera fatte per bene e MusicRacer serve proprio a trovare i finanziamenti per questi progetti come hai detto tu abbiamo finanziato in appena sette mesi di attività più di 110 progetti di diversa natura ma tutti musicali e abbiamo distribuito più di 300.000 euro a questi artisti o a chi ha proposto questi progetti esattamente allora se sei d'accordo con me chiedo alla regia di mandarci un contributo che vediamo le facce di questi protagonisti di successo oltre 300 razer più di 10.000 euro e ho recente ho finanziato il mio secondo albolo in qualche settimana Dandelion ma di 5.000 euro per la produzione del nostro disco grazie a MusicRacer ho realizzato la raccolta fondi per il mio nuovo disco grazie ciao grazie musicraiser.com ed ecco queste erano le facce alcune di quelle che hanno avuto successo tra i primi la prima tornata esatto i primi come è nata un po' questa idea ma in realtà è da diversi anni che guardavamo intorno quello che succedeva cercavamo una via alternativa alla discografia tradizionale e la rete ci ha dato la possibilità di conoscere dei siti tipo Kickstarter Indiegogo siti che appunto facevano crowdfunding ma non soltanto per i progetti musicali per qualsiasi tipo di attività quindi si andava dal design ai fumetti ai film alle produzioni di qualsiasi cosa e MusicRacer tra l'altro prevede ricompense che è una tipologia di crowdfunding una piattaforma di crowdfunding si chiamano reward based basate sulle ricompense perché i finanziamenti prevedono una contropartita quindi gli artisti mettono a disposizione delle esclusive che può essere il disco che andranno a realizzare autografato piuttosto che una t-shirt a tiratura limitata o tantissime altre cose poi dipende anche dal grado di disponibilità degli artisti stessi ci sono artisti che magari danno la disponibilità anche di musicare dei testi di gente comune piuttosto che di fare un concerto via Skype però non ci sono delle ricompense start ognuno le idea e le propone a seconda appunto quindi finanziamenti che mette la folla non sono donazioni fine a se stesse ma hanno un ricambio non sono donazioni libere ma sono appunto una specie di prevendita rispetto a quello che poi sarà l'oggetto della campagna questo perché è importante anche per l'artista di oggi essere attento alla sua promozione deve essere un storyteller deve saper comunicare con la community quindi cosa è importante fare in progetti come quelli che passano attraverso la piattaforma guarda molti ci scrivono non capendo niente di come funziona la piattaforma esatto ho fatto dieci canzoni in cameretta e adesso voglio spaccare il mondo voglio andare in radio tv eccetera e chiedo 40.000 euro non funziona così è tutto commisurato a quello che è la propria fanbase anche se hai un piccolo seguito questo è importante è importante che tu ce l'abbia e l'obiettivo economico deve essere tarato in base a quello che è il tuo seguito faccio un esempio se hai mille amici o mille fan su facebook è difficile che tu riesca ad ottenere più di 1.500 2.000 euro se chiedi 20.000 euro probabilmente è una campagna fallimentare è decisamente ambizioso e noi comunque stiamo attenti a tante cose quando quando premiamo i progetti perché non è automatico il fatto di andare online gli artisti o i creatori dei progetti ci mandano la loro proposta noi la valutiamo e poi se ci piace la mettiamo online abbiamo bisogno di due requisiti fondamentali uno la credibilità artistica e professionale perché abbiamo bisogno che dietro ogni progetto ci sia una persona che dimostri che conosce l'ambiente che ha già realizzato qualcosa che non sia un perditempo perché vogliamo assolutamente evitare che qualcuno si trovi dei soldi in tasca e poi non consegni le ricompense o ci faccia fare brutta figura e poi la qualità artistica quindi devi essere devi produrre musica non ci interessa che tu sia il nuovo Jeff Buckley però l'importante è che tu abbia una storia artistica documentabile che possa fare vedere che insomma che sei un artista vero anche se non hai tantissimo seguito ecco comunque la piattaforma garantisce un appoggio ci sono dei tutor ci sono dei talent scout come me esatto ma Miriam è una nostra talent scout infatti ecco comunque sostengono i vari progetti noi puntiamo tanto sul fattore umano perché quando hai a che fare con una piattaforma che lavora in questo modo quello che può venire a mancare è proprio il contatto fra te che lavori al progetto e chi sta dietro la piattaforma noi invece abbiamo dei tutor che si prendono cura di ogni progetto e cercano appunto di dargli tutti i suggerimenti migliori per migliorare la comunicazione e anche la promozione dei singoli progetti stessi